Presida il cuore, il cuore, il Signore, alleluia, alleluia. Dal profondo della notte, rompe gli arci di l'aurora, il suo amore vive ancora, e il suo amore vive ancora. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù disse a Nicodemo, Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque, infatti, fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece, chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. La accendiamo anche dopo. La accendiamo dopo al momento giusto. Anna Maria, la accendiamo dopo. Ma non c'è, va bene. Allora, vorrei oggi partire da questa espressione che abbiamo ascoltato nel Vangelo dove Gesù, in questo dialogo con Nicodemo, alla fine dice queste parole che abbiamo trovate all'inizio di questa pagina di Vangelo. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di Lui. Ecco, mi pare che questa parola di Gesù dovrebbe farci tirare il fiato. Cioè, Gesù non è venuto per condannarci. Non c'è nessuna condanna. Gesù non viene per condannare l'uomo. Ecco, se vogliamo allora essere uomini e donne come Gesù, dobbiamo guardare a questo mondo senza condannarlo. E possiamo già chiederci, o per il mondo gli stessi sentimenti che sono stati di Dio Padre, del Figlio Gesù, che ha dato la vita per questo mondo, per queste sorelle, questi fratelli, senza aspettare un mondo migliore. Non è che Dio ha detto, ma aspettiamo che gli uomini migliorano prima di incarnarli. Ecco, potremmo chiederci e farci questa domanda. Quale sguardo ho su questo mondo, su questo tempo? Lo sguardo di chi condanna è lo sguardo di chi continuamente dice un po' sconsolato «non è più come una volta». È un'espressione vera, ma se questa espressione può diventare una condanna quando ci legittima a chiuderci in se stessi, senza cercare di amare questo mondo per poterlo cambiare. Che cosa ci sta dietro l'espressione non è più come una volta, non è più il mondo di prima. È vera, ma se questa espressione noi la diciamo per ritrarci, per chiuderci in noi stessi e rinunciare ad amare questo tempo e questo mondo, allora è come se stessimo condannando questo mondo. Non siamo nello stile di Gesù che non è venuto per condannare. Ecco, lo sguardo di condanna su questo mondo ci fa rinunciare ad amare e nasce dalla sottile presunzione di sentirci a posto. Io sono nel giusto. E allora mi permetto di condannare tutto ciò che non va bene, senza dare la possibilità agli altri a questo mondo di poter cambiare grazie anche al mio contributo. Ecco, la domanda allora che ci sta dietro questa pagina di Vangelo, la provocazione che ci lancia è quale sguardo abbiamo su questo mondo, su questo tempo. Lo sguardo di condanna è lo sguardo di chi continuamente, anche dietro la pandemia, vede complotti da tutte le parti. E quindi dice, c'è il marcio dappertutto e non riusciamo più a vedere il bene che comunque c'è in questo tempo, cosa che invece fa Gesù che non viene per condannare, ma viene per salvare. E la salvezza parte proprio da uno sguardo simpatico su questo mondo, su questo tempo. Ecco, potremmo tradurre questo stile che non condanna con le parole che aveva scritto Paolo Borsellino nel suo diario. scriveva così anche dopo la morte di Falcone. Diceva, Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare. A me pare che questo sia lo stile di Gesù di Nazare, di amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare, non chiuderci in noi stessi. Ecco, questo mi fa dire che la grande questione della nostra vita non è convertire il peccatore a Dio, ma il giusto allo stesso sguardo misericordioso di Dio. Per dirla con la parabola del padre misericordioso, la questione più grossa non è convertire il figlio minore della parabola che se ne era andato, ma il figlio maggiore ha la stessa grandezza d'animo del padre. Per dirla con appunto la vicenda di Giona, la questione non è convertire quelli di Ninive, ma Giona a quelli di Ninive. Potremmo dirla così, cercate di capirmi bene. Dovremmo convertirci, cioè non il mondo alla Chiesa, ma la Chiesa al mondo. Nel senso che la Chiesa non condanni questo mondo, ma continui ad amarlo. Convertirci al mondo, fedeli al mondo, scriverà Bonhoeffer in un suo libro, che vuol dire appunto avere questo sguardo simpatico su questo mondo per continuare a volergli bene, ad amarlo, nonostante il male che in questo nostro tempo talvolta si manifesta. non possiamo rinunciare ad amare questo mondo per cambiarlo. Non sono venuto per condannarlo, ma per salvarlo. Questa parola fa bene a tutti noi, ma tutti noi dobbiamo metterci sullo stile di Gesù, che non condanna questo mondo, ma viene per salvarlo. Il seme è andato in vacanza, non ci sono grandi avvisi. Se non che vogliamo riprendere qualche serata sotto il tendone per riattivare una socializzazione nella normalità, già abbiamo provato mercoledì sera, è andata bene. È andata bene in tutti i sensi, nel senso che ha vinto il Napoli. Comunque, al di là di questo, poi anche questa sera allora si potrà entrare, ovviamente gli ingressi saranno limitati a 60 persone, abbiamo visto che ce la facciamo, dalle 7 alle 8. Dalle 7 alle 8 l'oratorio apre, si può entrare, sedersi qua, nel cortiletto, la pergola dovrebbe funzionare, anzi funzionerà senza dovrebbe e si può stare insieme insomma con tutte le attenzioni che ci vengono chieste in questo tempo. Io ho altri avvisi, ecco domenica prossima ancora le messe saranno qui nel cortiletto, poi da luglio cambierà l'orario delle messe, la messa delle 9 non ci sarà e tutte le messe saranno in chiesa, 10, 11 e mezza, 18 alla domenica. Va bene? Preghiamo!